Un piano, un po' di rinforzo e due tanti, che iniziamo con la città, la TREVI! E da tutto il pubblico, da tutti noi, per il peso di 58,9 kg, i patroncini, neri, la e ci sono i nostri amici, a tutti noi, Luca, che iniziamo con la città, la TREVI! E da tutto il pubblico, che iniziamo con la città, la TREVI! E da tutto il pubblico, che iniziamo con la città, la TREVI! E da tutto il pubblico, che iniziamo con la città, la TREVI! E swayte l' daha! E sta sert opener! Non sopra, non sopra, non sopra, non sopra! Non sopra! Non sopra, 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 non sopra Vieni! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.